E lì arriva la fine di questa partita, era una partita da vincere a tutti i costi e purtroppo è capitata questa sconfitta supplementare. Sicuramente è una sconfitta che fa male, penso che meritavamo di portare a casa i tre punti e adesso dobbiamo lasciarla subito, metterla da parte e essere pronti per domani. Sul 2-1 vi siete un po' tirati troppo indietro e dopo di che loro ce l'hanno creduto fino in fondo e dopo del 2-2 avete ricominciato ancora a spingere sull'acceleratore, forse avete un minimo di presunzione. No ma penso che abbiamo giocato bene su tutto l'arco di 60 minuti e sono mancati gol per portare a casa la partita quindi dobbiamo essere un po' più cattivi sotto porta. Queste ultime partite vedo che le squadre praticamente diventano quasi tutte partite a playoff dove tutte le squadre ci mettono l'anima per portare a casa il risultato anche perché penso che vaga sia per i primi posti e anche per i playoff. Sicuramente è il rush finale, tutti vogliono essere nei primi 8 quindi le partite si fanno più dure, entra già il ritmo playoff quindi dobbiamo essere pronti anche noi. Le tue condizioni fisiche dopo il tuo rientro? No mi sento bene, sono state tre settimane lunghe però ho recuperato bene, adesso l'ho messo dietro e adesso sono pronto per il rush finale. Bocca al lupo per la partita domani. Grazie. Grazie.